La diffida è in arrivo nelle prossime ore a seguire quanto già protocollato nella giornata di venerdì agli enti preposti Presidente della Regione Puglia in testa, invitati in nero su bianco ad esprimere in mattinata parere negativo in sede di conferenza dei servizi alla realizzazione di un grande centro commerciale progettato in località Cascioni a Galatina nella frazione di Collemeto, la cui approfazione dovrà passare prima dalla valutazione della Commissione esaminatrice delle integrazioni prodotte dal Comune e dalla Pantacom, la società costruttrice. Alla vigilia della seduta le associazioni ambientaliste capeggiate da Forum Ambiente e Italia Nostra hanno nuovamente alzato la voce per ribadire il no al progetto definito il Sacco del Salento chiedendo la verifica delle prescrizioni inserite nel recente piano paesaggistico. Ci siamo resi conto che non è stata tenuta in considerazione questa strada che è la strada che collega Galatina con Lemeto e Copertino, che è a Valenza paesaggistica per cui si sarebbe sicuramente dovuto considerare il PPTR che è stato approvato in data 2 agosto. Un megaparco che si è realizzato finirebbe accusano gli ambientalisti con lo stravolgere la vocazione agricola lesivo alla stessa economia cittadina, la cui attuazione non troverebbe tra l'altro alcuna giustificazione in un momento di crisi fonda come quello attuale. La nostra richiesta è quella di rigettare qualsiasi mira autorizzativa a questo progetto in conferenza dei servizi anzi, a dir di più, porre dei vincoli ulteriori su questi terreni e su quest'area paesaggistica.